Questa l'ho già sentita? Chiunque mi ostacoli mentre eseguo questo incarico è già morto. A le armi! Ha ha ha! Sei cibo pericard! Hey! Ah! Dunque questa è la fine... per te. Sono già qui. Ah! 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 Posso schiacciare sette come te in un sol colpo. Ah! 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 Sì, non è vero. SORGIO ASSASSINO! Slater's grave, nota per le sue cave di Ardesia. Non so neppure io perché lo faccio. SORGIO ASSASSINO! SORGIO ASSASSINO! SORGIO ASSASSINO! SORGIO ASSASSINO! SORGIO ASSASSINO! A presto. Atenzione! Non sono una bestia da Soma. Non sono una bestia da Soma. Chiunque mi ostacoli mentre eseguo questo incarico, è già morto. La stagione della caccia è iniziata. Non so neppure io perché lo faccio. Vediamo fin dove facciamo volare questa testa. Scegliere ogni singola cosa che trovi in giro. A un certo punto lo zaino traboccherà. Scegliere ogni singola. 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 E' ora di fare una bella ripulita. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Resta dove sei. Grazie a tutti. Non posso portare altro. Grazie a tutti. 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 Sono sopra carico. E non posso portare nient'altro. Grazie a tutti.